Welcome to MiraTV Ragazzi sono qui nell'ufficio di Peonia Perché purtroppo come avete potuto ben leggere nelle stories di Instagram Nella community di Youtube Il mio computer mi ha abbandonato Fortunatamente è ancora in garanzia Quindi già in viaggio verso l'HP Spero che mi ritorni in tempi buoni Anche se ho qualche perplessità Però fino a quando non tornerà Dentro casa mia quel computer Io farò i miei video direttamente da qui Dall'ufficio di Peonia A volte anche con Peonia stessa Per parlare soprattutto di SmackDown e All Elite Wrestling Però continuerò a parlarne da solo Nonostante Peonia sia stata molto contenta Quando stamattina le ho comunicato Che Drew McIntyre è diventato nuovamente campione WWE per la seconda volta nella sua carriera Alla fine ragazzi c'è riuscito Drew McIntyre ha battuto Randy Orton Nuovamente sì perché l'aveva battuto a SummerSlam Anche se di rapina Diciamoci la verità lì l'aveva battuto di rapina Nell'ambulance match lì ha l'ultimo pay per view Ha penultimo pay per view perché l'ultimo Randy Orton Nell'ina sera è riuscito a battere Mentre a Crash of Champions Randy ha affaticato tantissimo Contro lo scossese anche per colpa di interventi esterni Di Christian, Shawn Michaels, Ric Flair eccetera 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 Ecco lì che però Drew McIntyre in questa puntata di Raw nel main event È riuscito a batterlo con soltanto una Cremor Cake Uno, due, tre Ne parleremo più tardi Ne parleremo più tardi perché voglio dire qualcosa Anche ai fan di Randy Orton Con quest'ultimo che durante la contesa O meglio durante il pinfall finale della contesa Ha fatto un qualcosa di molto bello secondo me Ci torneremo a parlare dopo ragazzi Perché dobbiamo Dobbiamo iniziare i discorsi per quanto riguarda la puntata di Monday Night Raw Che si è aperta sempre con lo scossese Che è andato a parlare però direttamente a Roma Reigns Nuovamente dopo quello che aveva fatto venerdì Ecco lì che Drew McIntyre pensa subito di parlare al Travel Chef Era un Drew McIntyre molto sicuro del risultato del main event Almeno io ho avuto questa sensazione Vi dico la verità Ho visto un Drew McIntyre sicurissimo di vincere il main event di questo episodio Tant'è che le sue prime frasi erano dirette a Roma Reigns Nuove provocazioni Nuove frasi che ci lasciano capire Quanta può essere bella la loro sfida a Suvaro Serie Cert'è che uno deve anche pensare Ma Drew guarda che c'è pur sempre contro Randy Orton Che ti ha battuto di Nassel Però è niente L'ex Joseph One era convintissimo di battere Randy Orton Che si è fatto però sentire Durante il discorso di McIntyre Era parso sul Tantron alla Vipera E ha voluto quasi riportarlo un po' Con i piedi per terra Ricordandogli che Randy è il greatest wrestler ever Perché ha vinto il miglior match di wrestling di sempre contro Edge A Backlash Ce lo ricordiamo tutti E quindi Randy Orton ha voluto un attimo ripuntare Con i piedi per terra il suo avversario E andando anche a ricordare che Randy Nonostante sia stato sospeso 30.000 volte Nonostante qua e là le multe che ha preso Lui è sempre lì perché la WWE ha bisogno del miglior wrestler di sempre Almeno secondo Drew e Randy Orton Quindi è stato un bel discorso questo tra Drew e Randy Poco dopo ci arriva un'altra risposta dello scozzese Che però si fa interrompere il suo promo Da chi? Da The Mills e John Morrison Io ragazzi quando ho visto questi due Mi sono messo a ridere Perché non so come si possa ancora proporre The Mills Lì con quella valigetta Con chissà quale credibilità contro Drew McIntyre Dopo che settimana scorsa l'ha preso a pizza tutte e due Ma va bene così The Mills e John Morrison vanno un po' a provocare Lo scozzese tra l'altro Miz ci annuncia anche Che sarebbe stato lì a commentare il match di Randy Orton E Drew McIntyre ci mette questa pulce nell'orecchio Ma soltanto pulce Ma soprattutto ragazzi c'è Morrison che se ne esce Con una frase che a me lascia molto perplesso Ovvero che Bray Wyatt settimana scorsa Non si è presentata a loro perché aveva paura di loro O meglio aveva paura di Mr. Money in the Bank Io quando ho sentito Morrison dire questa cosa Ho fatto subito un percorso chiaro nella mia testa Ho detto quando arriverà la risposta di Bray Wyatt Per dire che non può avere minimamente paura di questi due Poco più tardi D'altro ce l'hanno annunciato anche durante l'episodio Fatto sta che mi sono messo davvero a ridere Che quando vedo Miz e Morrison Purtroppo vedo lottatori straordinari Ma in un ruolo di un comedico Ormai non mi fa più sorridere Mi fa soltanto inquietare Per non dire un altro termine Andiamo avanti Parliamo del 3 contro 3 Come 3 contro 3? Sì 3 contro 3 Delle donne lì con Lana che ha fatto coppia Con Shana Petra e Nia Jax Tra l'altro queste due Avevano invitato Lana a non entrare per niente Durante questo 3 contro 3 Perché tanto ci avrebbero pensato loro A distruggere Asuka Almeno secondo loro Asuka, Dana Brooke e Mandy Rose Quindi abbiamo questo 3 contro 3 Che in verità Fino a un certo punto È un handicap match Con Shana e Nia Jax Che si comportano anche abbastanza bene Riuscendo a mettere in difficoltà Il team composto da Mandy Dana Brooke e Asuka Le chiavi del match quali sono ragazzi? Cioè Shana volentierose di far male Alle sue future possibili Anzi perché poi so cambiare Alle sue future da team partner Mettiamola così Poi ci aggiungo io qualcosina Perché fino a quel momento Mandy e Dana Erano comunque le future da team partner Su various studios Di Shana Basel Che però ha fatto di tutto Per cercare di infortunarle Mi viene da pensare lì A Mandy Rose Che si va a prendere Dei bambi importanti alle braccia Stessa cosa Pure a Dana Cioè Shana Basel Voglia distruggere chiunque Nia Jax ci mette del suo Perché le ci vuole Relativamente poco A distruggere qualcuno E ecco lì Che Shana Basel Riesce anche Ad arrivare un momento Dove sta per vincere la contesa Con la sua Finisce la sua Mossa di sottomissione Arriva Lana Che rovina tutto Da una parte Ho anche gioito Perché Lana va a dare il touch A Shana Basel Si vuole mettere in proprio Lana Ma ragazzi Quando ho visto Il touch di Lana Ho detto qua Vincolo le face Marco Selvi Chissà quale comeback Difatti Asuka dopo qualche secondo Va a fare la sua Asuka Locke a Lana E giustamente La moglie di Roosevelt Cede in pochi istanti Lì Nia Jax fa vedere Di essere Copiaciuta Di questa reazione Di Lana Che nonostante Avessero detto Che non fa niente Ha fatto qualcosa Ha dimostrato coraggio Lana Talmente coraggio Che Nia Jax Ha deciso di premiarla Si ragazzi Nia Jax ha deciso di premiarla Con un nuovo Sound drop Sul tavolo Io ho perso il conto Siamo 8 9 95 volte Ho perso il conto Di questa roba qua Ma io mi rifiuto anche Di aggiungere altro Perché mi sono rotto Un pochino le palle Di commentare Tutta sta roba qua Io mi auguro ovviamente Che dopo Su Vero Series Le cose cambino Non solo per Lana Non solo per Nia Jax Shaina Ma per tutta quanta La divisione femminile Di Ro Perché davvero Mi stanno tutte Pure quello Che ho visto Con Mia Yim Ragazzi Parliamo subito Per di Mia Yim Che è andata a attaccare Nel backstage Dana Brooke Infortunando Dana Brooke Con un attacco Davvero Perché Mia Yim Mi è andata a attaccare Dana Brooke Qual è il senso logico Qual è il senso logico Perché Tu mi hai tolto Da Svelo Series Dana Brooke E Mandy Rose Me le sostituite Con Lacey Evans E Petor Royce Grande team Grandissimi acquisti Poi Togli Mandy Rose Dana Brooke E metti Petor Royce E Lacey E avanza davvero Pensi proprio Ah gli hanno dato la vittoria Tranquillamente Ma di che stiamo parlando Lasciamo stare Ma poi Poi uno si chiede Ma perché Mia Yim Allora ha fatto St'attacco qua A cosa è servito Qual è il messaggio Che mi devi lanciare Mia Yim Davvero Io sono rimasto Scandalizzato Da sta cosa Io preferisco Andare avanti Perché poi potrei diventare Un po' Pesante Con la gestione femminile Anche se Continuo a dire Che la miglior Gestione femminile Che io stia vedendo Negli ultimi mesi C'è la NXT Ma guarda Ragazzi Vi dico anche questo Pure a SmackDown Non è che ci sia Chissà quale situazione Però Sasha Banks E Bayley Hanno tirato avanti La baracca Con una buona storyline Prima di loro A SmackDown Vedevamo qualcosa Con Alexa Nikki Cross C'era comunque Bayley che batteva le altre Ok che hanno inventato Pure le roba Dico quella Batte Roy La famosa Però vedevamo anche Qualcosina diverso Diciamo che Di tutta quanta La visione femminile Quella NXT È l'unica che si salva Ma ormai non è più Chissà quale novità Certo è Certo è Che io a volte leggo Che qualcuno Vuol vedere Rhea Ripley Candice Dakota Kai Yoshirai Nel mio evento Io a quel punto Vi vorrei dire questo Se le spostano Tutte quante A SmackDown Mi sto anche D'altrano Oppure a Raw Che fine fanno Se siamo capiti Se siamo capiti Allora Parliamo nuovamente Dei Rattler Però Quel segmento Porta più che altro Un po' di comedy Perché Edge Styles Grazie a Riddle Scopre che Jordan Quel colossone Che è accanto Parla inglese Edge Styles Lì si illumina L'occhio Davvero parla inglese Allora qua Bisogna fare delle discussioni Sono curioso Di sentire Delle opinioni Lì mi è sembrato Un comedy Così Bello Che ho faticato Anche a dire Che è stato Un brutto segmento L'ho apprezzato Perché poi Giustamente Il team Raw Lo stavano preparando Per la grande sfida Contro l'Etre Buccia Che è Comedy Giustamente Perché l'Etre Buccia Ne è comedy Quindi ci sta Che mi abbiano posto Un segmento del genere Styles Non sta più combattendo Sta facendo combattere gli altri Intelligente Grande capitano Styles Per me il capiamo di Raw E Styles Questo è proprio Ma sicuro Passiamo oltre E parliamo Della Farfly Fan House Con Bray Wyatt Che a quel punto Ragazzi Ha lanciato la sfida A The Miz Visto che si è sentito Provocato Lì nell'opener Della puntata Bray Wyatt Giustamente Sfruttando la fan house Lo va a sfidare Nel migliore dei modi Cioè Perché poi accanto A Alexa Bliss Che anche lei Ci ha messo Qua storia del suo Questi segmenti Straordinari La fan house Bellissimo vedere poi Bray Wyatt Fare degli allenamenti In vista del match Contro The Miz Gli allenamenti Di Bray Wyatt L'avevamo già visti In passato Però rivederli Con questa spontaneità Ironia Bellissimo Raga Con Alexa Bliss Che è soddisfattissimo Di vedere Bray Wyatt In questo A me è piaciuto Tantissimo Bray Wyatt Nuovamente Ma poi Già che ci sto Ragazzi Mi sta prima Dove parlarne Perché secondo me Qua Dobbiamo dare ragione A chi vuole vedere Tanto Bray Wyatt Perché quando Vediamo la contesa Contro The Miz Io mi sono emozionato Non c'era chissà quale Lottato di mezzo C'era tanto Intrattenimento Ha aiutato anche Dal fatto Della interpretazione Straordinaria Di tutti e quattro I personaggi Convolti Bray Wyatt Alexa Bliss The Miz Ma anche John Morrison Anche John Morrison Ragazzi Perché lui Che va a colpire Bray Wyatt Mentre l'abitro È distratto È bellissimo La relazione Che fa Perché Wyatt Non assorbe Manco il colpo Che cazzo Sto facendo Ma poi vogliamo Parlare anche Di quando Alexa Si lancia Con Morrison E quest'ultimo Per vendere Oltremente Il colpo Va a fare Un selling Clamoroso Contro la balosta Si cataputta D'altra parte Con Alexa Bellissimo Bellissimo È stata tutta roba Studiata secondo me Perfettamente Vanno applauditi Tutti quanti Sul ring Fanno anche La loro porca figura Secondo me I scambi Tra The Miz E Bray Wyatt Io sto andando Tutto a memoria Vi dico la verità Sono tutto a memoria Ma ancora negli occhi Cioè Bray Wyatt Che si preoccupa Del bump Che ha preso Alexa Lino Oltre a essere caduta Oltre a balaostra Con Morrison E Miz Che ne prova A approfittare Prova a fare Il disco punch Lo connette Bray Wyatt Lo reversa Nella Sister Ebike 1 2 3 Bray Wyatt Vince la contesa Ha cambiato Completamente espressione Bray Wyatt Che se fino a 20 secondi Prima era preoccupato Per Alexa 20 secondi dopo Era soddisfatto La vittoria Poi si volta Verso al balaostra Come se sapesse Che per Alexa Non si era fatta nulla Difatti Alexa Riemerge E se la ride Per ciò che ha fatto Bray Wyatt Arrivando alla vittoria Bellissimo Bellissimo Io adesso qua Non so se mi sono segnato Altro Non so se mi sono segnato Altro Fatto sta che Io ho trovato Un match straordinario A livello di intrattenimento Mi ha divertito tanto Anche questo fatto Che il penultimo match Di Bray Wyatt In queste vestite L'aveva fatto Pro contro E Mitz L'ultimo L'aveva fatto Con Braun Strowman E ce lo ricordiamo tutti A me è piaciuto tanto Sti due poi Si conoscono benissimo Mitz e Bray Quindi mi ha intrattenuto Davvero molto Cert'è che non fa Una bella figura De Mitz Ma questo lo stiamo dicendo Davvero tanto Chi si aspetta De Mitz Campione WWE Secondo me dovrebbe Un attimo Capire Che se diventa Campione WWE Questo De Mitz C'è qualche problema C'è assolutamente Qualche problema Soprattutto in base Anche a quello Che ci stanno offrendo Drew McIntyre Randy Orton Delphine stesso Bisogna fare altro Bisogna fare altro Non sarei sorpreso E di sicuro Non sarò uno di quelli Che si metterà Le mani nei capelli Se De Mitz Non riesca A incassare La sua valigetta Assolutamente Non uscirà Anzi Non uscirà A incassare La sua valigetta Quindi Ragazzi Vi dico la mia così Passiamo oltre E parliamo Dell'art business A new day Art business E new day Perché questi due Ovviamente Ragazzi Sono due fassioni Che stanno facendo Benissimo Secondo me A raw E i new day Anche privi di big e Sono comunque Molto interessanti Sfornano contese Secondo me Bellissime Anche perché Dall'altra parte Stanno avendo L'art business Che sta rivitalizzando Anche la tag team division Di raw Con ottime prestazioni Allora Parliamoci chiaro Prima della contesa Tra new day E art business Composti ovviamente Da Cedric E a Sheldon Benjamin Abbiamo un batte ribatti Con dei promo E questo l'avevamo già visto No Due settimane fa Se non sbaglio O settimana scorsa Non ricordo bene E quindi Ci sta Che loro abbiano Voluto intrattenerci Con dei promo La cosa che a me Più fa sorridere È Kofi Kingston Che va a dire Che sì A Super Series Si affronteranno Il best of best Ma il best È il new day E il best Dall'altra parte Saranno i street profits Non cita minimamente L'art business Perché giustamente Nonostante sia una fazione Face New day Devono fare questo Però Io vorrei parlare Del match ragazzi Perché ancora una volta Ci tirano fuori Una grandissima prestazione A me il loro match Mi è piaciuto Fottutamente tanto Pieno di capovolgimento Di fronte E tra l'altro Delle combinazioni Che ti portavano a pensare Che l'art business Potesse vincere il match Perché a un certo punto C'è Kofi Kingston Che si becca La mossa combinata Di Cedric e Shelton Xavier viene fatto fuori Io lì ho detto Questi stanno per dare Ditori a l'art business Non ci credo Perché io ho puntato I new day Però non ci credo Lo fanno veramente Già fanno Ditori ai new day Invece no C'è stato un kick out Clamoroso di Kofi Il match è ripreso Nonostante questo È incredibile Come i new day Sì sono riusciti A mettere in difficoltà L'art business Ma per vincere Si è dovuto fare Un mazzo così raga Perché hanno dovuto Inventare una combinazione Che ha portato poi Kofi Kingston A fare la triple in paradise Voi vanno a dare Il touch Cioè Kofi va a dare Il touch a Xavier Shelton rinviene E viene buttato fuori Dal ring Da Kofi E quindi poi Possono fare la finish A su Stedric Alexander E lì arriva La vittoria dei new day Però è stato studiato Tutto quanto Molto 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 bene E raccontarlo Non è manco tanto facile Perché è stato Un match Ad altissimo livello Altissimi ritmi Ma soprattutto Sfruttato bene Con cervello Perché ogni spot Che mi hanno proposto A me sinceramente So piacere davvero tanto Se dovessi vedere Un altro match da due Visto che stanno 1-1 Stanno 1-1 Quindi In futuro mi auguro Di vedere Art Business Contro New Day Ragazzi Io sarei felicissimo Perché Per me Questo è il wrestling Vero Quello là Che mi hanno proposto loro I ritmi che mi propongono New Day E Art Business Nella team division Eccezionali Eccezionali Vorrei vedere pure Un po' Bobby Lashley Con Cedric Vi dico la verità Pure che mi schiano Un po' le carte Però bello 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 Passiamo oltre Aia Mi tocca parlare Dalle tribusci Prima però Abbiamo avuto Un segmento importante Perché Shimus Ha incontrato Drew McIntyre E ha fatto Un piccolo regalo Ringier Molto scozzese Per Drew McIntyre Lo vedemmo Tanti anni fa Con quei Ringier Io me lo ricordo benissimo Era un Drew McIntyre Completamente diverso Ma è stato bello Vedere come Celtic Warrior Si è stato lo stesso A consegnargli Non solo Quei Ringier Ma anche una spada La spada che raffigura Molto questo Drew McIntyre Che poi l'ha portata Così anche Durante l'entrata Nel Manevent E' stato bello Vedere questo Shimus Che secondo me Sta fingendo Di essere Amico Di Drew McIntyre Perché poi In vista di Dei borse La del Arceglie Sono pronto a metterci Anche la mano su fuoco O meglio Facciamo così Questo lo farei io Shimus Dopo Super Series Potrebbe essere Un avversario transitorio Di questo Drew McIntyre Campione WWE Ce lo vedrei molto bene Perché è uno Shimus Che da Wanda Raw Secondo me Si è reinventato E' uno Shimus Più bello Dispetto a quello Abbiamo visto A SmackDown Sarei curioso Di vedere Shimus Drew McIntyre Perché secondo me Lo scozzese Sta facendo tutto questo E sperava vivamente Che Drew McIntyre Riuscisse A tornare a essere Campione WWE Per motivi suoi Personali Infatti ci sta Come cosa Quindi Shimus Sta facendo tutto L'amico L'amico Mi auguro Che in vista Di Dei borse La del Arceglie Stiamo pensando Di proporre Shimus Contro Dumechita Anche perché Tables La Mercede E' un PPVU Abbastanza Sottolineo la parola Abbastanza Transitorio in vista Di Roll Della Royal Rumble Mi piacerebbe Molto L'idea di vedere Shimus Contro Dumechita Vi dico la verità Passando Sempre se poi Shimus Sarà uno dei protagonisti Su Mario Sirius Perché poi Qualora questo accada Mi deve anche Provere Shimus In maniera cazzuta Su Mario Sirius Potrebbe farlo Occhio Potrebbe farlo Perché due eliminazioni Shimus Può tranquillamente farle Per via del blowkick Chi lo sa Chi lo sa Parliamo di Rebushion Parliamo di Rebushion Che ha affrontato Il team Raw Ho cambiato Completamente mood Perché non capisco Non capisco Quello che ci Quello che ci hanno proposto Quello che ci hanno proposto La scorsa notte Vi dico la più sincera verità C'è stato un momento Dove ho visto Braun Strowman e Shimus Collaborare E far fuori La Rebushion In tre secondi Tant'è che poi Sul ring è rimasto Soltanto Mustafa Ali O Ali Decidete voi Mustafa Ali Io lì mi sono chiesto Come fa Il team Raw A perdere contro Le Rebushion Perché hanno fatto vedere Di avere uno star power Così elevato rispetto a Le Rebushion Che gli è bastato talmente poco Per sdraiare tutti quanti E certo il loro leader Il grandissimo Mustafa Ali Che ha portato Alla vittoria Il suo team In un 4 contro 4 Davvero difficile Difficile scrittura Per tutti i problemi Che c'aveva il team Raw Tant'è che non si volevano Per niente vedere Si danno sempre Spesso il touch Braun Strowman Da il touch a Shimus Quell'altro Vuole dimostrare qualcosa Kit Lee Prova a metterci Sempre una pezza Riddle Con la sua parte ironica Cerca un po' Di calmarle E' stato un match Così Però Nella fase finale Quando ho visto Shimus e Braun Strowman Distruggere i tre Componenti In un secondo In un secondo Ho detto Ma qua mi sembra chiaro Che in qualche modo Il team Raw Riuscirà a battere Le trebuccio Invece Ali si inventa Quello lap Improvviso Se non sbaglio Su Riddle 1, 2, 3 Ali riesce a battere Quindi Riddle mi sembra Dando la vittoria Le trebuccio Che scappa via Sull'epron Volenterosa di festeggiare Ma che cazzo Festeggiate Ma cosa mi festeggiate Mi hanno Mi hanno perso La rivalità Con l'hard business Mi battono il team Raw Che ha gente Secondo me Incredibile A livello di star power Mi riferisco Ai vari Braun Strowman Kid Lee Mi riferisco A Shimus Che secondo me È meglio Di bar Proposto in sta maniera Anche se io Dai Djokovic Ragazzi Mi piace tantissimo Ma queste vesti Quindi Vi dirò Sono rimasto Molto 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 Perplesso Molto Perplesso Forse si vuole Ripuntare Sulla retribution Me lo fate capire Dopo Su vera series O all'interno Delle series Anche perché Questi Resteranno fuori Anche Sulla retribution E negli ultimi Quattro mesi Abbiamo visto Soltanto una volta In un pay per view Le retribution Vi diamo un po' Cosa hanno in mente Ricochet Non si è visto Per niente Uno si aspettava La risposta Di Ricochet In questo episodio Ce l'hanno messo Anche in apri Cosa deve fare Ricochet Accetterà O no Manca un promo Niente Io quando ho visto Quattro contro quattro Timmerò Contro Le retribution Forse faranno Cinque contro cinque Ci mettono Stiles Altra parte Ricochet Niente Pimp mentali Davvero inutile Perché Ricochet Manco si è fatto Vedere Ma forse ha fatto Pure meglio Vediamo un po' Allora Jeff è incazzato nero Con Elias Per roba che succede Nel backstage Ne parleremo meglio Secondo me Dopo su Vario Series Perché sta Storyline Destinando a continuare Ho visto un Jeff Hardy Leggermente diverso Mi fermo qua Perché ogni volta Che dico questo Jeff Hardy La settimana dopo Mi delude Quindi non vorrei Buttargli davvero I secchi addosso Ehm Ah beh Sì abbiamo già parlato Di Mitz Contro Bay Dobbiamo parlare Del main event Parliamo del main event Abbiamo fatto anche Comment abbastanza veloce Rispetto ai 35 Inutile A parte questo Main event Bello ragazzi Main event Che secondo me Difficilmente Avremmi potuto dare di più Nonostante Abbiamo Drew McIntyre Randy Orton Il lottato Me lo aspettavo Di questo livello qua Non possiamo chiedere A Randy Orton Di alzare i ritmi Perché come vi ho sempre detto Randy Orton Non è uno di quei lottatori Che ti fa Dei match Della Madonna A livello di lottato Lui punta molto di più Sulla psicologia E sull'intrattenimento E di fronte a sé Aveva un Drew McIntyre Volenteroso Di riprendersi il titolo Da lui E basta Non che sia poco Però Drew McIntyre Ci doveva Arrivare In quell'obiettivo là Nel miglior modo Con la Claymore Kick Non Senza inventarsi Stavolta Pinfall Diversi Quindi La scrittura del match È stata anche Secondo me Un pochino complicata Ho visto Randy Orton Parlare più volte Con l'arbitro E sta cosa Mi ha fatto molto sorridere Perché Randy Sembra quasi che Volesse portare avanti lui Il match Provendo tutto ciò Che gli veniva in testa Tant'è ragazzi Se ci avete fatto caso Si sono sfidati Con dei back soplex Sul tavolo Che è la mossa tipica Di Randy Orton Perché Randy Orton Quando va fuori dal ring Tu sai già Che fa un back soplex Sul tavolo Al suo avversario E stavolta Gli hanno fatto fare Più volte anche A Drew McIntyre Si sono sfidati A gara di back soplex Su sto tavolo Che non si rinunpeva Per niente A un certo punto McIntyre Punta Randy Orton Per la Claymore Kick Ma finisce su sto tavolo Che continua A non rompersi Bello Ok Però io sinceramente Faticavo a chiedere Di più a sta contesa Perché Non penso Che loro Possano fare di più Con una rivalità Che è durata davvero tanto Questa era già La quarta volta Se non sbaglio Che si affronta Cioè Ragazzi Il loro meglio L'hanno fatto secondo me Nell'ambulance match E forse anche All'interno della gabbia Fuori non mi sono piaciuti Per niente Continuo a dirlo Fuori sono stata Una porcata Randy Orton A un certo punto Cercava di scappare via Per non vincere la contesa Qui invece Randy Orton Si prova a scappare Ma per mantenere Il titolo Da più sulla sua spalla Perché qualora fosse Riuscito a scappare Avrebbe perso Il match Per Contout Ma sarebbe rimasto Campione Invece ci ha messo Una pezza Dampiers qua Che ha fermato Randy Orton Sulla rampa E ha detto Oh dove vai Qua il match Cambia assicurazione Può finire soltanto Per schienamento O per sottomissione Quindi ritorna sul ring Non per sale far furbo E giustamente Adam Pearce Si è anche vendicato Per quello che è successo Settimana scorsa Dove Randy Orton L'aveva appiccicato Al muro Quindi è stata studiata Anche molto meglio Qua secondo me Rispetto a La parte esterna La parte esterna Dentro al ring Non è che Abbiano fatto Chissà cosa Perché Randy Orton Nel finale Della contesa Prova a fare Archeo Drew McIntyre Gliela riversa L'ho spinto una via Prendere bondo E le corde Lo va a colpire Poi Con un violentissimo Claymore kick Che stacca la testa Dal collo A Randy 1 2 3 Ragazzi Il New Yorkitar Torna Campione WWE Grazie soltanto A una Claymore kick Se uno pensa A quello che è successo Durante l'ambulance match Ragazzi è normale Che poi mi tocca Legge Eh beh Lì Randy Orton Esistiva tutto Ma sono match Completamente diversi Sono gimmick match Quelli Deve succedere di tutto E poi il finale Deve essere chiaro Perché deve finire Dentro un'ambulanza Non c'è il pinfall Di mezzo Il pinfall È una cosa differente Randy Orton Nella storia Con Drew McIntyre È sempre riuscito A scappare Dal Claymore kick Se non Nell'ambulance match No addirittura lì Drew McIntyre Gli ha fatto Il suo Pan kick Cioè Andiamoci conto McIntyre per vincere Quella contesa Ha richiesto Aiuto di tutti quanti Claymore kick Pan kick Mancava solo Facessi 200 Anche io Quindi vi devo dire La verità Dal loro match Io Non mi aspettavo di più Siamo qua a parlare Di Drew McIntyre Campione WWE Oppure Siamo qua a parlare Di Randy Orton Che ha già perso Il titolo Drew McIntyre Campione WWE Penso che non rubi Nulla a nessuno Perché il 2020 È stato l'anno Di Drew McIntyre Il 2020 Ancora non è terminato E Drew McIntyre Può dare ancora tanto E io Già penso che a Survivor Series Vederemo davvero Una bella contresa Contro il Trevor Che potrebbe Ragazzi è facile Scrivere questa roba qui Romarets potrebbe Battere questo Drew McIntyre E poi ritrovarsi a dire Che a differenza Di Brock Lesnar Lui ha battuto Anche il grandissimo Drew McIntyre Che ha avuto Un dominamento Straordinario Roba facile Genuina Tranquilla Quindi io Il Drew McIntyre Non la discuto Per niente Randy Orton Fa un quattordicesimo Quattordicesimo regno Davvero Bruttino Solo di un mese Composto solo Qualche promo Vi dico la mia Che vi avevo detto Randy Orton Ha vinto Sì il titolo di WWE Ma sarebbe servito Soltanto per le statistiche Cioè Se noi Ci ritorniamo a parlare Di Randy Orton Che mi perde Il titolo di WWE Secondo me È una cosa Anche positiva Nel 2020 Perché Deve dare spazio Anche agli altri Io vi invito Senza che faccia Altri ragionamenti Che poi so che I fan di Randy Orton Non saranno mai d'accordo Con me Però vi invito A guardare Quello che il vostro Iro Randy Orton È andato a fare Dopo il conto di tre Randy Orton È andato a dare Una pacca Su una chiappa A Drew McIntyre Quello mi è sembrato A me Il mio modo di vedere Un simbolo di riconoscimento Di apprezzamento Per Drew McIntyre Io l'ho vista così Dopo il tre Vedete benissimo Randy Orton Che dà una pacca Sulla chiappa A Drew E a me E questa cosa Ha fatto molto sorridere Perché Randy Orton Secondo me Attualmente ha soltanto Un obiettivo in carriera Quello di arrivare A 16 titoli Come John Cena Ripley Eccetera eccetera Quindi non è pesantissima La sconfitta Per Randy Io la vedo così Ragazzi Drew Ci sta Che secondo me Sia ridiventato Campione da PWV Su questo Possiamo qua Stare a discutere Un pochino Però Lo faremo magari Un mio di V Lo faremo magari Un mio di V Io continuo a dire Che Randy Orton Come obiettivo primario Da qui Fino agli anni a venire A soltanto Quello di raggiungere I 16 titoli Mondiali Io ho questa Da qua Fatemi sapere la vostra Qui sotto nei commenti Spolliciate Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Questo è ancora fatto Ragazzuoli Dammi da tutto Too sweet